Anche in vista di Expo ci sono diversi comuni impegnati a muoversi su progetti che riguardano l'agricoltura e l'alimentazione. A Castione sono più di dieci anni che si premiano i migliori orti. Sì, quest'anno abbiamo l'undicesima edizione dell'Orto in Montagna, che è un concorso proposto dal comune per premiare le coltivazioni in quota di ortaggi e di piccole coltivazioni ad uso familiare. Siamo veramente felici quest'anno, abbiamo fatto la richiesta e abbiamo avuto il patrocinio di Expo 2015, quindi nella premiazione che si farà nell'ottobre 2014 ci fregeremo anche di questo importante patrocinio. Sottolineo che abbiamo da sempre in questi undici anni favorito quella che è la coltivazione ad uso familiare in quota in comuni montani appunto di piccoli ortaggi e abbiamo visto nel corso degli anni veramente un incremento della qualità della proposta che i turisti piuttosto che i residenti fanno e la cura che danno per i loro orti. Quindi invito veramente tutti a visitare il sito della comunicazione appresolana dove è presente il bando che spiega sia le modalità per iscriversi e sia i termini. Ci sarà una commissione che poi dal 20 di luglio nell'arco tra il 20 di luglio e il 10 agosto andrà a valutare e visionare gli orti e poi ci sarà appunto una classifica e una premiazione che sarà fatta nell'ottobre 2014. I patrocini di questa importante per noi manifestazione sono notevoli perché ovviamente quello più rilevante è Expo 2015 ma avevamo già il patrocinio di Regione Lombardia del settore agricoltura, della provincia, della comunità montana, di Slow Food. Pertanto invito veramente a partecipare a questo importante evento anche perché dà soddisfazione. Io vedo che quando facciamo il giro con la commissione vediamo chi partecipa, che di anno in anno vuole spiegare quelle che sono le migliorie apportate al proprio orto. È veramente una manifestazione importante.